ho finalmente un po' di mare per ricaricare le energie poi da siciliana doc a me il mare fa proprio bene mi mancava tantissimo comunque io sono appunto appena arrivata e le ragazze della gig mi hanno portato questo regalino perchino che non vedo l'ora di consegnargli personalmente perché già mi manca tantissimo da parte di Canova Dog che organizzano addirittura i matrimoni con i cagnolini che portano le fedi quindi insomma Andrea vedi quello che devi fare come sempre messaggio subliminale e quindi loro realizzano tutti questi prodottini fantastici per i nostri amici a quattro zampe grazie mille Canova Dog grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille Allora ecco il lavoro, magari qui, la nostra raffi, mani, acqua, è l'unico marco del gruppo ragazzi, guardate. E la nostra marco, noi ci chiedevamo ma tutto davvero. E la nostra marco, noi ci chiediamo. 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 Chiediamo. E la nostra marco, noi ci chiediamo. non so se senti questo momento di vedere la toglia bellissima non so se senti questo momento di vedere la toglia bellissima non so se senti questo momento di vedere la toglia bellissima non so se senti questo momento di vedere la toglia bellissima non so se senti questo momento di vedere la toglia bellissima non so se senti questo momento di vedere la toglia bellissima non so se senti questo momento di vedere la toglia bellissima non so se senti questo momento di vedere la toglia bellissima non so se senti questo momento di vedere la toglia bellissima non so se senti questo momento di vedere la toglia bellissima non so se senti questo momento di vedere la toglia non so se senti questo momento di vedere la toglia bellissima non so se senti questo momento di vedere la toglia bellissima non so se senti questo momento di vedere la toglia bellissima non so se senti questo momento di vedere la toglia bellissima non so se senti questo momento di vedere la toglia bellissima non so se senti questo momento di vedere la toglia bellissima non so se senti questo momento di vedere la toglia bellissima non so se senti questo momento di vedere la toglia bellissima non so se senti questo momento di vedere la toglia bellissima non so se senti questo momento di vedere la toglia bellissima non so se senti questo momento di vedere la toglia bellissima vedo che non c'è sta niente o te la lunita tutto fa la merita tu vuoi la merita applausi e siccome è una bella festa io da solo qua non ci sto e nemmeno da solo non mi ha detto quindi mi tenessi un quadro ma indirettamente l'artista di questa sera Alex, vieni qui guarda che si fa pregare adesso a volte il quotidiano c'era adesso si fa pregare lei ha solo due azioni intanto scusami io e il mio socio Stefano Sala avevamo due mezzi preparati e uno ce li c'ha bruciato con il nostro nostro fratello sono due settimane che sono qui che parliamo cioè si è imparato anche a memoria sapete solo quello che fa bene è bello che vi facciamo lo sapete è l'unico mezzo che si è preparato guarda tu io ce l'ho oh voglio una vedere io ce l'ho è l'unico mezzo che fa pregare adesso 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 che fa pregare adesso è l'unico mezzo che fa pregare adesso è l'unico mezzo che fa pregare su ogni cosa è l'unico mezzo che fa pregare No, 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 no. Ma sta un'ora, che fretta c'era, maledetta primavera, che fretta c'era. Ma sta un'ora che fretta c'era, maledetta primavera che fretta c'era. Stai insieme è finito, abbiamo capito, ma il sole è tua Come mai il tuo occhio è stagno piacendo Dimmi bene, è un sogno di strano e spegnarlo Dimmi solo un minuto, un soffio di piatto, un attimo Aspettate un attimo Manila, Barbara, Gattatesa, Alessia Giulia, Hilary Grazie